Ciao a tutti amici e amiche di Inside2Games, benvenuti in un nuovo video, bello chiacchiericcio raga la prossima settimana, anzi tra i prossimi giorni, porterò un bel gameplay a sorpresa decidete voi fra FIFA o un altro video di Call of Duty, Modern Warfare oppure Warzone oltretutto raga sto pensando di riportare giustamente delle serie molto molto specializzate nel mio canale, vabbè raga una serie che ha fatto la storia nel mio canale, cioè sono partito proprio con questi due Rainbow Six Siege e GTA, quindi riporterò anche di nuovo, beh che già mi stavo riportando man mano però adesso li riporterò, infatti ho già dei progetti su GTA, cose divertenti senza star lì a girovagare online cose del genere, ma delle emissioni oppure delle cose divertenti raga andremo a scovare dei bug dopo anni che, anni no, dopo mesi che non lo porto più nel canale fatemi sapere se volete vedere poi come sempre qualcosa nello specifico raga scusatemi se non riesco a mettere i cuoricini o i like o a rispondere nei commenti del video precedente non so se riesco a rispondere ma almeno metterò i cuoricini per velocizzare un po', metterò solamente i cuoricini senza rispondere nel video precedente se non l'avete visto vi invito a recuperarlo e raga avevo intenzione di fare un piccolo vlog per quanto riguarda delle action figure eccetera delle cose nuove che mi sono arrivate però mi rendo conto che o ve ne faccio vedere dettagliatamente una per una nel senso così oppure mostrarvene una non ne vale la pena siccome ne sto aspettando ancora quindi non ha senso fare dei video spezzettati tanto vale che aspetto l'arrivo di queste altre figure, di queste altre pop perché ho preso anche tante pop raga e ho trovato anche delle pop abbastanza rare e non sto scherzando raga, molto rare e vabbè molto rare no ma difficile da trovare se le trovate comunque costano un botto invece lo trovate praticamente quasi al prezzo di fabbrica se non qualcosina anche di meno quindi per questo parleremo degli ultimi film che ho preso delle steelbook che ho trovato in offerta ovviamente voglio dire già che tutti i video che farò da qui in avanti eccetera come sempre non sono sponsorizzazioni raga qui mi sono graffiato vabbè poi vi spiegherò anzi chi mi segue su instagram già lo sa e ovviamente questi qui raga sono video non placement non sponsor sono video semplicemente così giusto per parlarvi fatemi sapere che fate di bello come state passando questo periodo ormai siamo nei pressi di agosto cioè quando vedrete questo video sarà 9-10 luglio non so comunque siamo già nei pressi di agosto non ce ne stiamo rendendo conto raga ma sta passando pure sto 2020 lo so che mancano ancora 8 mesi ma ma però raga il tempo è così passa subito fatemi sapere anche se volete vedere qualcosina su google stadia perché hanno aggiunto dei giochini niente male soprattutto tipo di indie e se non sbaglio hanno aggiunto anche la possibilità hanno messo anche degli sconti hanno infatti vi stavo dicendo hanno messo la possibilità un 10 euro di sconto ovviamente raga neanche questo è uno sponsor ve lo dico se casomai decidete di provare google stadia adesso non lo so prima infatti avevo fatto anche un video dedicato prima erano due mesi gratuiti e in più c'erano degli sconti dedicati giustamente agli account pro però raga ancora non ho trovato nessun gioco da prendere su google stadia ha fatto quelli del mio abbonamento pro quindi quelli di riscatto man mano e niente raga scusatemi la voce e niente raga fatemi sapere anche se volete dei dettagli in più perché io ho lo sconto di 10 euro su un gioco adesso vedo un po' qualche gioco che ancora non ho che ne vale che valga la pena comprare tramite google stadia anche perché i giochi quelli che non ho e quelli un po' più carini già li hanno messi nell'account pro che già ho riscattato quindi vabbè ho aggiunto far cry 5 alla libreria della xbox che anche quello lì è risconto e poi verranno c'è raga sto caricando sto preparando dei video verranno dei video molto molto divertenti dove andremo a trollare google ma no come hanno fatto altri eccetera andremo a trollare google pesantemente facendo in modo che sto organizzando la cosa sto finendo di editare in realtà qualcuno già l'ho caricato ma aspetto un attimino perché voglio un attimo voglio un attimo prima rivederlo e modificare qualche pezzo se è necessario se no addirittura lo faccio anche da capo se non mi piace se non viene come dico io il video e andremo a trollarlo ma semplicemente useremo la voce magari di un film per dargli comandi e imposteremo anche delle frasi in maniera cui possa parlare con altri dispositivi eccetera quindi tante novità raga tante sorprese e come ho detto oltretutto vi aspetto come ho detto anche in altri video vi aspetto su tik tok perché a breve farò un bel video alla quale farò la reaction di tutti i tik tok quelli più belli e soprattutto quelli più cringe quelli un pochino più strani quelli un pochino più vergognosi per così dire e niente raga questo video finisce qua dura poco ma è giusto un video di intermezzo proprio per tappare un po' questi giorni perché se no va a finire che chi mi segue giustamente vede 4, 5, 6 giorni che non carico niente volevo ripeto volevo già mostrarvi qualche figure adesso c'è qualche statuetta eccetera però non non credo anche perché faccio vedere una cosa brevemente qui raga da come potete vedere là comunque sono tutte figure crash eccetera non ve le faccio vedere più di tanto perché nel dettaglio voglio aspettare il video dedicato come sempre se volete essere salutati il contest non è finito e raga non so neanche se uscirà questo contest in quanto quelli lì che vogliono essere salutati non metto un hashtag salutami però se volete essere salutati nel video che sarà poi che caricherò più avanti basta lasciare l'hashtag mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate un bel pollicione all'insù attivate la campanella per non perdere altri video seguitemi su tiktok e su instagram vi lascio tutti i link in descrizione un bacione alla prossima ciao